Il Nursing di Ragusa, il sindacato degli infermieri guidato in provincia da Claudio Trovato, annuncia per domani lo sciopero della categoria e spiega che la causa è da ricercare nelle poche economie che il governo ha stanziato per il rinnovo del contratto del comparto sanità e in special modo per alcune normative sull'orario di lavoro e sulla dignità dei lavoratori che non possono accettare dopo quasi dieci anni di blocchi contrattuali questi pochi spiccioli stanziati. La segreteria provinciale del NURS in Ragusa ha scritto al prefetto, all'assessorato regionale alla sanità e alla commissione di garanzia di Roma in merito allo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale a livello nazionale, segnalando proprio la mancata applicazione della normativa sui servizi pubblici essenziali. Si è disapplicato totalmente l'accordo sindacale e aziendale per la determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei servizi in caso di sciopero, continua trovato, e in alcuni settori è mancata perfino l'informazione al personale che voleva partecipare aderendo alla protesta proclamata in tutta Italia dal NURSIND. Il tutto ledendo la dignità degli operatori nel diritto allo sciopero sancito dalla Costituzione. Trovato conclude dicendo che gli infermieri ragusani hanno risposto alla proclamazione dello sciopero con massimo rispetto per le norme e con modi del tutto civili e democratici, ma hanno trovato inefficienze ed incapacità gestionale da parte del personale dirigenziale dell'ASP.